Ci manca davvero l'ultimissima, vediamo la quinta carta messa in sfida. Quinta carta, ancora una carta verde e sul DAX, sull'indice tedesco. Questo perché da poco sono comunque stati pubblicati i dati sul sentiment tedesco, comunque un dato che è superiore all'attesa e ha raggiunto anche, credo, i massimi dell'ultimo periodo. È sicuramente un dato positivo, questo dà sicuramente maggiore sicurezza ai mercati. Ho detto che gli indici europei seguono un pochettino anche quello che è l'andamento degli indici americani. Queste operazioni, il rialzo fatto sul DAX, così anche come quella su Mediobanca, cercano in qualche modo di controbilanciare le strategie che abbiamo fatto a ribasso, sia sul Nasdaq prevalentemente. Quindi cerchiamo di essere positivi sul comparto europeo e cerchiamo di sfruttare anche quello che possono essere eventuali rimbalzi dai minimi della settimana scorsa. Infatti già guardando un grafico giornaliero, vediamo un candelone rosso abbastanza imponente. Io mi aspetto comunque che da questi livelli, infatti già a livello di 15.400 punti abbiamo aperto in gap ribassista. Mi aspetto un ritorno quindi sui minimi della settimana scorsa. E allora, dacci solo i livelli precisi che così li segniamo per la sfida? Livello di ingresso 14.850 punti, stop loss 14.450 punti e target a 15.600 punti. Anche in questo caso ho preferito comunque avere dei livelli operativi abbastanza stretti.